Grazie Grazie a te! 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 Andi! Palla, palla! Se gli tirate questa cade! No, no, se tirate quello sulla rete cade! Anche in un punto qualunque nella rete cade, dovrebbe cadere, ma tutto è caduto, ora non più! Sì, ecco, nella rete però di fronte, vabbè dai, giocate con questa ragazzi, poi si piglia, pazienza dai! E ci sono qui, non c'è da, 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 non c'è da! No! Non ci gioca la porra, giugatela avanti. Non ci gioca la porra, giugatela avanti.